Poi ci si avvicinava sempre di più a tutta un'atmosfera della preparazione della guerra d'Africa. Tutto doveva essere proiettato verso la guerra. Infatti il Duce diceva che nessuna briciola di pane doveva essere sprecata perché poteva servire a un soldato in Africa. Io sentivo dei discorsi diversi perché essendo con i miei fratelli che io avevo una grande ammirazione perché non avendo il papà erano il mio punto di riferimento e gli amici che venivano da mio fratello che io non sapevo il perché ci fossero tanti giovani che venivano lì. Mi ricordo solo quello che disse Strozzi che era un nostro quasi vicino di casa che dopo diventò il vicepresidente delle latterie riunite che era giovanissimo e disse il Duce diceva che i contadini avevano bisogno di fare la guerra, di avere l'impero perché avrebbero avuto possibilità di espansione e di lavorare. Lui invece disse in una frase che ricordo perfettamente la guerra per la povera gente non ha mai portato niente di buono. E nel mentre la padrona invitò tutti i contadini andare a ascoltare il discorso del Duce quando annunciò che sarebbero andati a conquistare l'impero e mia madre mi prese per mano e mi portò davanti al salotto buono della contessa perché in casa non si poteva andare per il fatto che si andava a sporcare ma lei aveva avuto l'obbligo di invitare i contadini a ascoltare il Duce. Io andai, ero tutta felice perché andavo a vedere e sentire una cosa nuova. Quando sentì la radio per me fu una rivelazione perché non capivo questa voce così roboante da dove venisse e non capivo neanche naturalmente le parole e cosa diceva e il significato particolarmente di queste parole. A differenza di mia madre. Infatti capì la gravità del discorso del Duce quando tornando a casa mia madre aveva le lacrime agli occhi perché pensava che aveva sei figli maschi e quasi tutti erano in grado di essere richiamati e andare a fare la guerra. e da quel momento non fui più felice di avere sentito la radio.